Come puoi dire il trucco di allora? Io ho fatto 100 film con la mia faccia, lavata col sapone e basta. Questo è stento a crederlo? Eh beh... Stento a crederlo perché le donne si truccavano anche allora, no? No, no, non esisteva. Noi ci truccavamo con un fiammifero sotto un piattino. Come? Come, come, come? Un fiammifero con un piattino, no? Eh, veniva un po' di nero. Con questo nero facevamo così perché ero troppo giovane per fare la donna fatale. Avevo 18 anni, 17, lei capisce? Per fare la donna fatale mi mettevo un po' di ombra così e basta. E un po' di rosa alle labbra e nient'altro.